Mio marito è morto quattro giorni fa. Mi dispiace. Ero una bravissima persona. Immagino. Hanno detto che ero un cavorrista. Il cavorrista è mio marito. L'hanno fatto pure sindaco, l'hanno fatto. Volevano bene tutto il quadro. E non si meritava di fare quella brutta fine di morire in un carcere fedente come il popolo. Non ho capito, un carcere? Un carcere. Ma che c'entro io, signora?